Le dico Caso Scanzi, lei mi risponde? Le rispondo che io in Toscana ho 25.000, questo è i dati di ieri, probabilmente ci arriveremo anche oggi, oggi non è conclusa la giornata, da 20 a 25.000 persone che si vaccinano. Ognuno deve essere responsabile di se stesso. Se ha rispettato le regole, ha rispettato le regole. Se non ha rispettato le regole, sarà di conseguenza. Non sono io a dover andare a verificare, a controllare. Io ho una catena vaccinale. Anche se a occhio lei è andata a vedere cos'è successo e quindi un'idea ce l'avrà e che non me la vuole dire. Io le dico che noi, e è importantissimo, parlo di noi tutta Italia, si renda conto che l'obiettivo è l'immunità di gregge. Noi dobbiamo arrivare a fare più vaccini possibili. Seguendo le regole. Grazie Presidente Gianni, grazie davvero per essere stato con noi. Ringrazio anche Daniela Preziosi. Corriamo in pubblicità. Oggi è tutta una corsa, è tutto così. Pubblicità.